I motivi della nostra protesta sono legati come sempre alla carenza di personale che ormai in tutta la pubblica amministrazione e comunque in tutti i settori è evidente per pensionamenti, per trasferimenti o per comunque altre attività a cui vengono destinati gli operatori e quindi vanno rispettati anche quegli accordi o quelle circolari ministeriali che prevedono alcuni interventi in merito. Si tindi protesta degli agenti iscritti alla CISL davanti al carcere, due palazzi di Padova, la situazione negli istituti di pena veneti e italiani non è più ripresa da dopo l'emergenza Covid. Sta succedendo che quello che si vive nella società esterna riguardo all'aumento della violenza di qualunque genere si sta ripercuotendo all'interno delle strutture penitenziarie e anche in questa. Il Covid ha messo in evidenza l'aumento esponenziale di problemi psichici e psichiatrici che come il fenomeno che le dicevo prima si sta riversando all'interno delle carceri italiane. Mancano fondi e personale anche in realtà come quella di Padova che è stata da sempre riconosciuta come un'eccellenza. Noi chiediamo che si abbia un occhio di riguardo veramente concreto sulla assegnazione di unità di personale specialmente nel ruolo agenti. Soprattutto chiediamo l'applicazione di una circolare emanata lo scorso settembre che prevede l'immediato trasferimento di quei soggetti che si rendono autori di aggressioni al personale. E non ultimo la ripresa regolare e lineare delle relazioni sindacali che nel distretto stanno riscontrando grosse difficoltà a trovare fluidità.